questi sono dei funghi che gli sciamani giapponesi in epoche passate in particolare in epoca jomon prendevano per avere più connessione con gli dei dei funghi allucinogeni molto potenti quindi ne prendiamo un pezzettino e lo andiamo a mangiare insieme veramente in questo posto è un po amaro un pochino e si deve inchiottire rimane un po la sensazione anche sulla bocca molto tipo annappa tipo il caco quando è un po' mazzareno c'è un bella una sera faccio assicchare il segno Per la vita ci sono due che te lo dire gli artisti. Non mi aspettavo che schizzassi. Right here, right now, right here, right now, è molto buono. Right now, right here. Allora, sono venti minuti che ho mangiato il fungo. E per adesso... Per adesso diciamo che mi sei...